In questa puntata vediamo brevemente cosa pensa Aristotele della psicologia e dell'agnoseologia. Prima di iniziare ti invito, come sempre, a iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche. Inoltre ti invito a seguirmi sugli altri canali social Instagram, Facebook e LinkedIn. Secondo Aristotele, la psicologia fa parte della fisica. Questo perché la psicologia studia l'anima, studia la psiche, come dicevano i greci del tempo, e la psiche è oggetto della fisica perché è forma incorporata nella materia, ossia dentro il nostro corpo. L'anima è quindi una sostanza calata nella materia che è, come la definisce il filosofo, l'atto finale primo di un corpo che la vita in potenza. Ti ricordi della divisione tra potenza e atto? Ti ricordi l'esempio dell'uovo che è potenza e del pulcino che è atto? Ecco, il corpo è vita in potenza e diventa vita in atto solo grazie all'anima. È per questo che l'anima è l'atto finale, perché è la realizzazione del corpo. Quindi l'anima ha bisogno di un corpo per operare e allo stesso tempo il corpo ha bisogno dell'anima per poter diventare vita in atto. Quindi si assiste ad una connessione tra anima e corpo in Aristotele, contrariamente ai pitagorici che invece ritenevano che l'anima fosse una sostanza a sé. Secondo il filosofo, la psicologia ha tre funzioni principali. La prima è quella vegetativa, perché l'anima nutre e si riproduce e questa è la caratteristica di tutti gli esseri viventi, a partire dalle piante. La seconda funzione è quella sensitiva, che invece è tipica degli animali e dell'uomo, che sono sensibili e in movimento. La terza funzione è presente solo nell'uomo ed è quella intellettiva. All'interno della funzione intellettiva, che consente all'essere umano di conoscere le cose, esiste l'intelletto passivo e l'intelletto attivo. L'intelletto passivo è la capacità dell'uomo di cogliere le forme intellegibili che sono in potenza dentro le cose. Quindi l'intelletto passivo è come se riuscisse a vedere l'uovo, ma non riuscisse a vedere l'atto dell'uovo, ossia il pulcino. L'intelletto attivo è invece la capacità di trasformare in atto le verità o i concetti universali, che sono sia nelle cose sia nell'intelletto passivo, ossia la capacità di vedere l'atto, ossia il pulcino, a partire dalla potenza, che è l'uovo. L'intelletto attivo, al contrario di quello passivo, non muore mai ed è quindi eterno. Invece l'intelletto passivo si corrompe e quindi non è eterno. Rimane però un problema aperto, legato al fatto che Aristotele non si interroga se questo intelletto attivo sia di pertinenza dell'uomo o di Dio o di entrambi. Aristotele non si pone questo quesito e saranno i filosofi successivi a discuterne, specialmente nella scolastica araba e cristiana e durante il Rinascimento. Ti ricordo come sempre di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per le notifiche. Inoltre ti invito a seguirmi sugli altri canali social Instagram, Facebook e LinkedIn, dove troverai ogni giorno argomenti interessanti di filosofia, psicologia e neuroscienze. Ti aspetto nella prossima puntata.